Il Tar boccia il piano paesaggistico per l'ambito di Sciacca, accolto il ricorso presentato da Roccoforte che non poteva più costruire le villette, la precedente amministrazione si era costituita in giudizio, esulta il gruppo dell'ex sindaco di Paola. E sulla bucciatura del piano paesaggistico e sull'approvazione della via VAS, Sciacca al centro accusa l'amministrazione Valenti, notizie nascoste per non dare merito a noi, replica Simone di Paola, i meriti sono loro, le colpe sono nostre. Mi sono dimessa da capogruppo dell'Udc a Lars perché mi chiedevano di assumere collaboratori esterni a 58 mila euro l'anno e io mi sono rifiutata, così al nostro telegiornale Margherita Larrocca Ruvolo. L'associazione L'Altra Sciacca torna a denunciare nuovi disservizi delle autolinee Gallo-Sais che coprono il tratto tra Sciacca e Palermo, numerosi passeggeri rimasti a terra nonostante fossero regolarmente in possesso del biglietto. Al parco giochi della Perriere il comune di Sciacca ha messo una pezza usata e mal rattoppata, così il Movimento 5 Stelle commenta all'intervento di collocazione di quello che avrebbe dovuto essere il discusso tappetino in erba sintetica. 21 studenti canadesi provenienti da un collegio di Montreal sono stati in visita oggi all'Istituto Calogio Ramato Letrano di Sciacca. I ragazzi hanno visitato i laboratori dell'indirizzo alberghiero ed assistito alla preparazione di piazzi siciliani. Ben trovati anche oggi al nostro telegiornale. Il Tarra ha bocciato il piano paesaggistico del 2014 per l'ambito comunale di Sciacca. Decisione importante che scaturisce del ricorso presentato dalla società Roccoforte a cui il piano impediva la realizzazione delle villette. Nasce così un altro capitolo della polemica politica. Sciacca al centro oggi accusa l'attuale amministrazione di non aver voluto dare questa notizia alla città in quanto si tratta di una battaglia giudiziaria intrapresa dalla precedente amministrazione. Il servizio di Massimo D'Antoni È stato accolto dal Tar Sicile il ricorso a suo tempo presentato dalla società Roccoforte contro il discusso piano paesaggistico nella parte naturalmente riguardante il territorio di Sciacca. Piano paesaggistico approvato nel 2014 dall'assessorato dei beni culturali che stabiliva tutta una serie di limitazioni che a Sciacca avevano finito col mettere in dubbio perfino le stesse previsioni del nuovo piano regolatore generale. Dal via libera a quel piano il magnate degli alberghi di lusso si era sentito danneggiato visto che aveva trasformato aree da edificabili in inedificabili impedendogli così di costruire le famose villette per le quali da anni dalle parti di verdura si attende l'arrivo delle ruspe. Su questo procedimento il comune di Sciacca con la precedente amministrazione guidata da Fabrizio Di Paola si costituì in giudizio condividendo le censure proposte dalla società Roccoforte. Costituzione in giudizio autorizzata dal Consiglio Comunale in carica in quel periodo all'unanimità dei presenti. Motivazioni, quelle del ricorso, dettagliate e circostanziate dal settore urbanistica dell'Ufficio Tecnico Comunale. Motivazioni fatte proprie e condivise dalla passata amministrazione a mezzo delle quali è stata acclarata la mancanza di una reale concertazione istituzionale tra la soprintendenza e l'ente comunale di fatto sovvertendo in maniera unilaterale il principio generale della partecipazione e della condivisione ad un procedimento ambientale di importante interesse per lo sviluppo territoriale. È un tema questo su cui oggi interviene a nome di Sciacca al Centro il consigliere comunale Salvatore Monte il quale nell'esprimere soddisfazione per l'esito giudiziario della vicenda trae spunto per una nuova polemica politica accusando apertamente l'amministrazione Valenti di non aver dato notizia alla città di quanto accaduto probabilmente perché si trattava di atti posti in essere sostenuti dalla precedente giunta di Paolo ed in particolare dall'ex assessore Ignazio Bivona supportato dall'ex dirigente Giuseppe Bivona. Questione che secondo Salvatore Monte riguarderebbe anche il favorevole accoglimento da parte della Commissione specialistica per le valutazioni ambientali istituita presso il Dipartimento regionale dell'Ambiente degli studi e degli elaborati relativi alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenze ambientali collegate al nuovo PRG del quale rappresentano preliminare adempimento. I superiori documenti ambientali, dice Monte, redatti dal professor Pietro Alberto Piazza incaricato dalla precedente amministrazione, concordati e sostenuti costantemente dal settore urbanistica dell'ufficio tecnico comunale e dall'amministrazione del tempo, consentiranno di poter definire l'iter di approvazione del nuovo strumento urbanistico generale oltre agli altri adempimenti di pianificazione ad essi collegati e discendenti. Monte mette in risalto anche il presunto ruolo politico avuto nel Via Libera alla Via Vass dell'attuale governo musumeci nella persona dell'assessore regionale all'urbanistica Toto Cordaro che, stando a quanto riferito da Salvatore Monte, avrebbe contribuito a fare esitare diverse decine di procedimenti ambientali che riguardano altrettante città siciliane rimaste incagliate nelle maglie della burocrazia regionale. Sciacca al centro parla di una strana quanto dannosa lungaggine procedurale che si è protratta per anni proprio coincidenti col disastroso governo Crocetta, esponente del PD, che ha palesemente contribuito, dice Monte, a rallentare lo sviluppo della regione. Per il gruppo che fa capo ad ex sindaco Fabrizio De Paolo occorre ora che l'amministrazione in carica, quella guidata da Francesca Valenti, accusata di avere disconosciuto gli impegni e meriti pregressi, sollecite la trasmissione degli atti al competente assessorato regionale all'urbanistica affinché si possa definire in tempi brevi il nuovo piano regolatore generale atteso ormai da 45 anni. Salvatore Monte, infine, plau del lavoro svolto dall'ex assessore Bivona, che dice non si è mai arreso davanti agli ingranaggi lenti e farraginosi della pubblica amministrazione, e a quello dell'architetto Giuseppe Bivona, da poco dirigente in pensione del comune di Sciacca, che ha sempre dimostrato, dice Monte, di amare alla follia questa città, portando a casa sempre importanti risultati finalizzati a sbloccare iter procedurali utili ad un sano sviluppo territoriale. Secondo il centro-destra le cose positive sono merito della precedente amministrazione, quelle negative sono colpa di quella attuale. Questa è l'opinione del capogruppo del PD Simone Di Paola, che oggi replica le critiche a partire da quella odierna sulla vicenda del piano paesaggistico. I consiglieri del centro-destra, dice Di Paola, sappiano che non si ripeterà un caso come quello delle dimissioni di Vito Bono. Vediamo il servizio. Andiamo avanti con una sorta di disco rotto, per cui se le cose vanno male, la colpa è dell'amministrazione in carica. Se le cose vanno bene, cioè se arrivano dei risultati positivi, il merito è di chi è venuto prima. È così che oggi Simone Di Paola, capogruppo del PD in Consiglio Comunale, invita i consiglieri del centro-destra a non indugiare oltremisura nello scontro politico nei confronti dell'amministrazione Valenti. È chiaro che a otto mesi dall'inizio di un mandato amministrativo tutto ciò che accade in positivo o in negativo è figlio, frutto e conseguenza del lavoro di chi è venuto prima. Ho la sensazione, ma è ovviamente una percezione, che qualcuno dalle parti del centro-destra accarezzi il sogno che si possa ripetere il film del 2009, che questi continui attacchi possano portare ad un logorio della maggioranza e dell'amministrazione. Premesso che io non voglio negare a nessuno la possibilità di sognare, ma non c'è davvero trippa per gatti. Quindi se questo è l'obiettivo, io suggerirei di assumere un atteggiamento più costruttivo e più propositivo. A Salvatore Monte, che ha sottolineato come in passato sulla chiusura dei musei l'attuale maggioranza lo accusasse di continuo, Simone Di Paola replica evidenziando che non si può chiedere il conto all'amministrazione dopo nemmeno un anno dal suo insediamento. Se un museo si tiene chiuso, per me è una vergogna, a prescindere da quale amministrazione ci sia in carica. Vero è che noi contestavamo la chiusura dei musei, degli spazi verdi all'assessore Monte. Ma è anche vero che queste contestazioni sono cominciate ad arrivare dopo il terzo anno di mandato. Io sfido chiunque a trovare interrogazioni sul tema nei primi due anni, nel primo anno e mezzo. Qui già abbiamo cominciato a dare giudizi a meno di un anno dall'inizio del mandato amministrativo. È imminente la messa a disposizione da parte del dirigente Todaro. L'unica parte dell'intervista di Salvatore Monte che io condivido è il giudizio su Michele Todaro, che è veramente un signor dirigente, il quale ha messo a disposizione altre unità lavorative per garantire una migliore turnazione nei giorni festivi e nel periodo estivo per poter garantire l'apertura. Dico anche che ho incontrato insieme all'assessore Bellanca importanti operatori del settore turistico che da qui a breve presenteranno delle proposte per una migliore fruizione attraverso la realizzazione di appositi itinerari del patrimonio monumentale, archeologico, chiesistico del centro storico della città. Quindi si sta lavorando per rendere più fruibile ai turisti ma anche ai saccensi le nostre bellezze, i nostri monumenti, i nostri musei. Sulla vittoria del comune di Sciacca al Tarra rispetto all'ambito del piano paesaggistico oggetto del ricorso Roccoforte, Simone Di Paola la liquida ricordando l'esistenza del principio della continuità amministrativa. Oggi vogliamo far credere alla città che se si raggiungono gli obiettivi il merito è di una sola amministrazione. È chiaro che è il concorso di un lavoro che si è consumato nel tempo. Ora io voglio dire una cosa e chiudo. Con questo continuo rimpallo di responsabilità, questo continuo rincorrere di colpe, di attribuzioni, di meriti o demeriti, non andiamo da nessuna parte. La città ci ride dietro. I contratti per l'assunzione di collaboratori esterni da parte dei gruppi parlamentari rappresentano uno spreco. Non potevo firmarli ed è per questo che mi sono dimessa da capogruppo dell'Udc. La parlamentare regionale Margherita Larrocca Ruvolo oggi spiega al nostro telegiornale ragioni per le quali nei giorni scorsi ha deciso di lasciare l'incarico. Sindaco di Montevago che poi aggiunge mi sono stati portati dei curricula per l'assunzione di persone che non hanno nemmeno i titoli adeguati. Sentiamo. È stata la Corte dei Conti a far notare che alla regione siciliana dall'inizio della legislatura, sfruttando una norma che era nata per tagliare i costi e che invece ha finito per aumentarli, c'è stata una vera e propria pioggia di assunzioni di collaboratori esterni da parte di tutti i gruppi parlamentari presenti all'Ars. Tutto ciò nonostante la riduzione del numero dei parlamentari con la conseguente minore consistenza dei gruppi che avrebbe dovuto portare ad una inevitabile riduzione delle assunzioni. Ma quando mai? Dentro i partiti si è scatenata una lotta tra i deputati per accaparrarsi il maggior numero di contratti. In meno di tre mesi di assunzioni ne sono state fatte un centinaio con la formula del D6, sigla che indica la categoria retributiva pari a 58 mila euro all'anno che vanno ad aggiungersi agli 80 cosiddetti stabilizzati in servizio da anni. Da qui i rilievi mossi dai magistrati contabili che hanno sottolineato come in Sicilia si spenda troppo rispetto alle esigenze. È questa la vicenda relativa ancora una volta agli sprechi che si consumano alla regione siciliana che fa da sfondo alla decisione dei giorni scorsi della parlamentare regionale Margherita Larocca Ruvolo di dimettersi da capogruppo dell'Udc. Io non potevo firmare quelle assunzioni, le considero uno spreco ed è per questo che ho preferito lasciare l'incarico, dichiara al nostro telegiornale il sindaco di Montevago. Davanti a questa scelta dovevo necessariamente dire no perché pur non essendo un giurista so ancora interpretare e leggere la lingua italiana. Le due note che sono arrivate dalla Corte dei Conti erano per me due note molto chiare e ho cercato di applicare queste quindi non è che ho fatto nulla di particolare. Ci può stare che se mancano determinati profili all'interno dei vari gruppi ognuno deve avere l'opportunità di una somma a disposizione per andare a cercare quel profilo e averlo all'interno del gruppo. Dico per esempio nel caso del mio gruppo manca un legislativo quindi è ovvio che se il gruppo non produce disegni di legge non sa fare due emendamenti alle norme, è ovvio che è zoppo, manca un attetto stampa e manca la figura della figurezza oggi indispensabile. I profili devono corrispondere però, se il profilo non corrisponde, noi abbiamo già i cosiddetti ex stabilizzati come li si vuole definire che fanno quel disbrigo di segreteria per quello che può servire, gli autisti per quello che può servire e ogni gruppo ha una sua dotazione di queste figure, ce ne sono 80 all'interno del palazzo, ogni gruppo ne ha una quota, quindi ho ritenuto opportuno utilizzarli loro per quello che fanno e sono già 8 all'interno del gruppo. Se a queste figure ne aggiungo altre con le stesse manzioni, ma non sto facendo, sto solo utilizzando male fondi pubblici. Non solo un numero eccessivo di collaboratori, all'Ars stanno entrando portaborse e altri precari che a fronte di titoli di studio bassi potranno percepire 58 mila euro all'anno, significa quanto addirittura di più di un dirigente regionale di fascia media. Non me la sono sentita di avallare assunzioni di persone che non hanno neppure i titoli adeguati, ha poi aggiunto Margherita Larocca Rubolo. Se vado a vedere nella declaratoria regionale la figura e il profilo del D6, il D6 deve avere una laurea, deve avere un curriculum di tutto rispetto, perché un dirigente, corrisponde ad un dirigente, non li ho avuti, ne ho avuti un paio che avevano la laurea, ma gli altri no. Quindi questo mi ha spinta inevitabilmente a non poter firmare, perché poi la responsabilità ricade sul capogruppo. Io non posso prendermi questa responsabilità di firmare dei contratti di lavoro per incrementare un gruppo di persone di cui già ho all'interno quelle competenze. Un guasto alla condotta idrica che approvvigiona la località San Marco è stato riscontrato nelle scorse ore dai operatori di Girgenti Acque. È questa la ragione per la quale la distribuzione idrica nella zona è stata temporaneamente sospesa. I tecnici dell'azienda sono già sul posto per eseguire i necessari interventi di riparazione. Girgenti Acque fa sapere che la distribuzione idrica nella zona interessata tornerà a regolare, a conclusione dei dovuti interventi di riparazione, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici. Tratti non idonei alla balneazione arriva l'ordinanza sindacale che fino al 30 ottobre istituisce il divieto di balneazione in alcuni tratti della costa saccense che saranno segnati da appositi i cartelli. Si tratta come noto dell'area del porto Rocca Regina, Vallone Can Salamone, Vallone Bagni, Lido Salus, Foce di Mezzo, Torrente Ganetici, Fiume Verdura e Fiume Carbone. L'associazione L'altra Sciacca torna a denunciare i disservizi dell'autolinea Gallo. Numerosi saccensi sono rimasti a terra sia a Pasqua che anche nelle festività di Pasquetta, sia in via Basile a Palermo che in via Agatocle a Sciacca, nonostante avessero tutti acquistato regolarmente il biglietto. L'altra Sciacca torna a chiedere alla Regione e ai responsabili della ditta di istituire un sistema di prenotazione dei biglietti e un numero telefonico ufficiale a cui chiedere informazioni nel caso in cui si verificano disagi per gli utenti. Sentiamo. Passano gli anni, ma i disservizi perpetrati dalle autolinee Gallo e SRL non passano mai. A segnalarli ancora una volta l'associazione L'altra Sciacca. Gli ultimi episodi si sono verificati prima e dopo delle festività pasquali, allorquando decine di viaggiatori, seppur muniti di biglietto, sono rimasti a terra sia a Palermo sia a Sciacca, in assenza di ulteriori posti disponibili sui mezzi. L'altra Sciacca ha inviato una nota molto circostanziata dei disservizi ai vertici dell'assessorato regionale alle infrastrutture e trasporti, ai dirigenti della ditta e al sindaco Francesca Valenti. Le problematiche sono sempre le stesse. L'emissione incontrollata dei ticket con le biglietterie che non controllano se vi siano o meno posti disponibili, ma che staccano biglietti alla cieca, col risultato che viaggiatori in possesso di biglietto già pagato restano a terra. L'assenza di un sistema di prenotazioni, anche online, che risolva la questione del sovraffollamento delle corse. L'assenza di un contatto telefonico ufficiale con i viaggiatori costretti spesso a chiedere lumi alle biglietterie che non sanno nulla delle intenzioni della ditta. La mancata istituzione di nuove corse, nonostante le richieste sempre maggiori provenienti pure dai paesi della Valle del Belice. Mezzi di trasporto vecchi e non sempre efficienti, sporchi, con l'aria condizionata guasta o con sedili con schienali diverti. Per finire con l'assenza di un effettivo controllo sulla qualità, si fa per dire, del servizio svolto. Già in passato la ditta Gallo si era assunta degli impegni precisi dinanzi i dirigenti dell'assessorato regionale di riferimento, ma da allora nulla è cambiato e nessuno ha mai controllato né sanzionato. Gli ultimi disservizi raccontano di viaggiatori imbufaliti e resta per salire. Il 28 marzo, corsa delle 17.15, 20 persone sono rimaste a terra in via Basile a Palermo, perché la ditta ha inspiegabilmente sostituito il consueto bus a due piani con quello ad un piano solo. I viaggiatori appiedati hanno dovuto attendere la corsa successiva delle 19.30. Altri disagi il 29 marzo, con utenti rimasti a terra sia alle 14.40 sia alle 17.15. Il 3 aprile sono stati 20 seccenze appiedati in via Gatocle, alla corsa delle 16.45. Altri disagi ed episodi simili si sono verificati più volte anche per le corse in partenza da Sciacca alle 6.30 del mattino. Nel 2018 è normale che si sia costretti ancora a fare a spallate per salire su un autobus dopo aver pagato il costoso biglietto? Celebrato oggi il ventisesimo anniversario dell'uccisione del maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, medaglia d'oro al valore civile alla memoria, assassinato dalla mafia il 4 aprile del 1992. Presso il santuario di San Calogero di Agrigento è stata celebrata una santa messa dal cappellano militare della legione carabinieri Sicilia, Don Salvatore Falzone, unitamente al parroco del locale santuario Don Giuseppe Veneziano, alla quale hanno partecipato i familiari di Guazzelli, il comandante della legione carabinieri Sicilia, il comandante provinciale dei carabinieri, il prefetto, il sindaco di Agrigento, i vertici degli uffici giudiziari di Agrigento e Sciacca, quelli delle forze dell'ordine locale e magistrati in quescenza che hanno condiviso parte del loro percorso con il sotto ufficiale caduto nell'adempimento del proprio dovere. A seguire presso il viadotto Guazzelli, luogo dell'agguato, si è tenuta una breve cerimonia commemorativa. Al parco giochi della Perriere il comune di Sciacca ha messo una pezza usata e mal rattoppata, così il Movimento 5 Stelle commenta l'intervento effettuato nel giardino del Museo del Carnevale. A guardare il lavoro finito non si capisce bene se ridere o piangere, aggiunge il Movimento che ritiene tutt'altro che dignitosa la soluzione individuata dall'amministrazione. Vediamo. A guardare il lavoro finito non si capisce bene se ridere o piangere. Al parco giochi della Perriere il comune ha messo una pezza usata e mal rattoppata. E' questo il tono utilizzato oggi dal Movimento 5 Stelle di Sciacca per commentare l'intervento eseguito alcuni giorni fa nel parco giochi del Museo del Carnevale dove è stato collocato il tappetino artificiale che un'impresa privata ha messo gratuitamente a disposizione del comune. Un manto erboso artificiale vistosamente logoro, rattoppato alla meno peggio, collocato in maniera irregolare e che probabilmente non è neanche antitrauma, osservano i consiglieri Teresa Bilello e Alessandro Curreri. Ma i componenti dell'amministrazione comunale avrebbero mai consentito l'installazione di un tappeto in queste condizioni in un giardino di loro proprietà? Si domandano i due consiglieri a giudizio dei quali non è certamente questo il modo di trattare i bambini della città. Ed ancora ci chiediamo se è questa l'immagine che l'amministrazione vuole offrire della città di Sciacca. Dopo sei mesi di attesa è questa la soluzione tutt'altro che dignitosa, individuata dal comune, concludono i due consiglieri comunali, ricordando che il Movimento 5 Stelle nei mesi scorsi si era detto disponibile ad installare a proprie spese un nuovo tappetino nel parco giochi della Perriera, ma la proposta non venne accolta. Il governo regionale ha deciso di rinviare nuovamente le elezioni provinciali. Si sarebbero dovute tenere entro giugno, mentre adesso la scadenza è stata prorogata a dicembre. Saranno i commissari a garantire ancora una volta l'ordinaria amministrazione. Un pasticcio iniziato con crocette che evidentemente Musumeci non sa come risolvere. Sentiamo. Niente da fare, anche il nuovo governo regionale targato Nello Musumeci ha deciso di rinviare le elezioni provinciali prorogando la fase commissariale. La decisione è stata presa dall'assessore al ramo Bernadette Grasso. La questione resta intricata. Innanzitutto la presenza dei commissari straordinari è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018, mentre l'ultima scadenza era datata 30 giugno. Non è tutto. Stando al nuovo disegno di legge approvato dalla giunta regionale, le elezioni dovrebbero tenersi, il condizionale ed obbligo, nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, in concomitanza con un turno straordinario di elezioni amministrative. Il nuovo DDL dovrà adesso essere discusso in prima commissione, per poi passare all'esame dell'ARS, che lo dovrà approvare entro il 30 giugno. Al centro del dibattito c'è anche un ricorso alla Corte Costituzionale, che dovrà decidere nei prossimi mesi se la riforma attuata dalla regione sia costituzionale o meno. Nel caso in cui il ricorso venga rigettato, si procederà regolarmente con l'elezione diretta dei presidenti dei liberi consorsi. Una situazione di stallo che dura ormai da anni, allorquando il precedente governo Crocetta decise di eliminare le province e costituire le città metropolitane e i liberi consorsi. Una riforma è rimasta a metà. Dovevano esserci elezioni di secondo livello e così non è stato. Dovevano essere ridisegnati i confini geografici dei liberi consorsi e la cosa si è subito arenata. Dovevano cambiare le funzioni degli enti e tutto è invece rimasto uguale. L'unica cosa mutata è stata l'assenza di fondi a disposizione dei liberi consorsi, che hanno grosse difficoltà a chiudere i bilanci, a pagare il personale e a garantire la manutenzione delle strade e delle scuole provinciali. Adesso il tentativo è quello di fare marcia indietro e tornare alle urne, riportando tutto a come era prima. Ma anche in questo caso si va di rinvio in rinvio, vivacchiando la giornata, senza idee e senza prospettive concrete di rilancio. Un pasticcio iniziato con crocetta e che evidentemente Musumeci non sa come risolvere. Intercultura. 21 studenti canadesi provenienti da un college di Montreal è in visita oggi all'istituto amato vetrano di Sciacca. I ragazzi hanno visitato i laboratori dell'indirizzo alberghiero ed assistito alla preparazione di diverse pietanze tipiche siciliane. Sentiamo. 21 studenti canadesi accompagnati da due docenti questa mattina hanno potuto assistere e cimentarsi nella preparazione di diversi piatti tipici siciliani. Dalle polpette con le sarde all'insalata di arancia alla caponata, passando per i dolci con le ova morine di cannoli, cocktail compresi. Dopo due anni di comunicazione a distanza, quando il progetto interculturale ha preso il via, la delegazione di Montreal, che ha stretto un gemellaggio con i ragazzi dell'indirizzo alberghiero dell'istituto amato vetrano, è venuta fino a Sciacca per conoscere e gustare la cucina siciliana. Siamo arrivati ieri, abbiamo fatto un giro di Palermo, bellissima città. Stamattina siamo andati alle scali dei Turchi, bellissimo. Allora la Sicilia è una bellezza. Cosa pensa di questo gemellaggio? È veramente un'opportunità culturale per gli allievi, magnifico. Allora penso che dal Canada all'Italia, alla Sicilia, a fare questo scambio c'è molta opportunità da imparare le culture e di comunicare insieme in parecchie lingue, l'inglese, francese e l'italiano. Allora è un'esperienza incredibile. Cosa hai imparato finora della cucina e della cultura siciliana? C'è molta diversità nella cucina siciliana. Ha provato street food e anche nei ristoranti, allora l'arancino. Allora ha detto che è stato veramente qualcosa delizioso a scoprire, perché in Canada non è lo stesso. Esiste, però non è lo stesso. Sei contenta di vivere questa esperienza? Vibi. Assolutamente. All'inizio ero un po' nervoso, non lo so che c'era, come era l'Italia, perché è lontana dal Canada, però sono contentissima di aver avuto questa opportunità. Un progetto di scambio, arricchimento culturale e approfondimento linguistico, curato per gli studenti dell'alberghiero dalla referente Giovanna Sedita, che, come spiega il dirigente scolastico Caterina Moulet, non si fermerà qui. Uno scambio culturale iniziato appunto proprio due anni fa. I ragazzi periodicamente erano in contatto tramite internet e adesso si è concretizzato appunto nella loro visita nella nostra scuola. Immaginate i ragazzi che vengono da una terra così lontana dal Canada. Sono degli alunni del Collège d'Anjou e del Montreal in Canada. Sono venuti oggi per visitare la nostra scuola ma anche il nostro territorio e quindi uno scambio che è uno scambio culturale a 360 gradi, uno scambio linguistico ma anche naturalmente uno scambio enogastronomico considerata la particolarità e la tipologia della nostra scuola. Infatti i ragazzi sono già all'opera, nelle nostre cucine, stanno lavorando insieme ai nostri alunni e alla fine avremo un bellissimo momento conviviale. E alla fine dell'anno anche ci sarà un ricettario con le ricette sia siciliane che canadesi? Sì, certo. Realizzeremo un opuscoletto con uno scambio appunto di ricette del Canada, del Quebec soprattutto e anche le nostre siciliane e della nostra cultura enogastronomica mediterranea. Gli studenti dell'alberghiero andranno anche essi in Canada? Speriamo, non naturalmente quest'anno. Stiamo programmando per il prossimo anno scolastico. E veniamo adesso alla nostra nuova rubrica all'interno del telegiornale dedicata ai prodotti tipici del territorio, al sapore e al gusto, la rubrica appunto del sapore. Uno spazio curato in collaborazione con la Salumeria del Buon Sapore di Calogero Fazio che oggi ci propone le sue busiate con Piacentino. Oggi presentiamo il piatto del giorno. Busiate trapanese di Tumminia al piacentino ennese. ingredienti. Busiate trapanese di Tumminia, acciughe fresche deliscate, carciofi di stagione e appunto formaggio piacentino ennese allo zafferano. Come preparare? per quattro persone mezzo chilo di busiate trapanese di Tumminia, mezzo chilo di acciughe fresche deliscate, 400 grammi di cuore di carciofi di stagione, 200 grammi di formaggio piacentino ennese allo zafferano a giulienne. Come preparare? Lasciare a cucinare per otto minuti in acqua salata la busiate trapanese di Tumminia. Saltare in padella con olio d'oliva le acciughe fresche deliscate e tenere da parte. Lasciare saltare in olio d'oliva il cuore di carciofo a spicchi. Una volta la pasta pronta saltare tutto in padella aggiungendo le acciughe e i carciofi. Una volta pronto aggiungere il piacentino ennese a giulienne e servire. Ecco busiate trapanese di Tumminia con acciughe, carciofi e piacentino ennese. Buon appetito da Calogero Fazio. E dopo le ricette in cucina di Calogero Fazio vediamo i consigli della Mondadori sul libro da leggere. Ella, una giovane operaia, vive ricoverata nel manicomio di Charton. Solo perché in seguito a un moto di stizza ha rotto il vetro di una finestra nella filanda dove lavora. Nell'edificio in cui è rinchiusa uomini e donne vivono separati ma ogni settimana il direttore organizza un ballo al quale partecipano entrambi i sessi. È così che ella e John si innamorano. Riuscirà a sopravvivere il loro amore nonostante un avverso destino? Ispirata alla storia del suo trisavolo, l'autrice ci narra come anche in un luogo di sofferenza e reclusione sia possibile sognare una vita diversa. La sala da ballo di Anna O. Edito Ponte delle Grazie. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime. Buon pomeriggio. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito.